Depositato l'emendamento che stanzia 400.000 euro destinati a definire la vertenza tra la panoramica, la società di trasporto pubblico urbano di Chieti e i lavoratori. Sul tavolo della trattativa è il mancato rinnovo degli incentivi del contratto di secondo livello. L'emendamento è stato sottoscritto dal sottosegretario con delega ai trasporti d'annunzis e dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo, il quale da settimane si era attivato per arrivare ad una soluzione della vertenza che da un anno vede i lavoratori della panoramica senza il riconoscimento degli incentivi previsti dalla contrattazione di secondo livello. Giovedì scorso, durante la conferenza dei capogruppo alla Regione, le organizzazioni sindacali hanno chiesto di vincolare queste somme al rinnovo contrattuale. E' stato quindi definito l'iter per le risorse che saranno trasferite al comune di Chieti, il quale poi dovrà agire nei confronti della panoramica, chiamata a ripristinare le corse soppresse. Le organizzazioni sindacali dei trasporti, rappresentate dai segretari regionali Franco Rolandi, Filt CGL, Andrea Maschitti, Filt Cisl e Luciano Lizzi, Faisa Cisal, hanno evidenziato che il problema non ha interessato unicamente i 70 dipendenti della panoramica di Chieti da oltre un anno con la contrattazione aziendale azzerata e una decurtazione salariale di oltre 4.000 euro, ma abbia più in generale intaccato pesantemente in un servizio pubblico essenziale come quello del trasporto pubblico locale, che in provincia di Chieti e nello specifico nel comune capoluogo ha rappresentato un caso anomalo ed esclusivo nello scenario regionale e paradossalmente anche nazionale. Soddisfazione viene espressa oggi dalla CISL che ora però ribadisce come i sindacati debbano farsi garanti della ripresa della contrattazione che vedrà ristorati i lavoratori della panoramica, così come andrà garantita la riorganizzazione dei servizi alla collettività teatina per il diritto alla mobilità. Ma, ribadisce Maschitti dalla CISL, bisogna soprattutto battersi per far sì che i lavoratori della panoramica abbiano turni di lavoro a norma di legge.